Icotea, istituto universitario riconosciuto dal MIUR, nella sua ampia offerta formativa prevede anche una serie di corsi di alta formazione post diploma, tra questi il diploma di perfezionamento metodo ABBA di 1500 ore. Il diploma sul metodo ABBA, Applied Behavioral Analysis, fornisce strumenti di approfondimento sull'applicazione dei principi della scienza del comportamento. Il metodo ABBA è applicabile a tutte le fasce di età e per tutti i disturbi dello spettro autistico. Per saperne di più vai su www.icotea.it, clicca su tipologia, cerca corsi di alta formazione, vai su diploma di perfezionamento metodo ABBA 1500 ore.